confermatissimo a furor di popolo davide migliore davide complimenti per questo riconferma merita disse naturalmente sul campo ci ritroviamo anno dopo anno esperienza dopo esperienza sempre a a sostenere i colori granata allora prospettive davide anche per te questo primo giorno di allenamento impatto con i nuovi portieri allora ringrazio per prima cosa la società per la riconferma per quanto riguarda i portieri oggi ne ho due ne arriverà qualcun altro sono dei ragazzi di valore riconosciamo tutti e due quindi penso di fare un buon lavoro come sempre uomo di sport il tuo in bocca al lupo ai ragazzi che è allenato perché fa uno sano effetto tutti questi privilegi ad andare nei ritiri delle varie squadre e trovarli da avversari che poi avversari non lo saranno mai perché quando in un anno condividi gioie nasce nata mai gioia e dolore nasce il rapporto di amicizia e qui su tutti questi primi giorni fa strano vederli con un'altra maglia il tuo in bocca al lupo ai ragazzi che hanno indossato i colori granata si quest'anno le ritrovo tutte e due col giugliano sia speranza che sasà navarra gli faccio un grosso in bocca al lupo prima uomini poi calciatori sono dei ragazzi splendidi bocca al lupo veramente parliamo del mondragone la società ha chiesto la salvezza mino lampidiello e fabbio del predo unite tutta la classe dirigenziale davvero una società come esempio che mantiene gli impegni è chiara dal primo momento un budget limitato naturalmente spese contenute per poterci divertire sul campo magari l'appelio vi mangiando investire stata facendo assorno ai risultati la società come vola a basso però i ragazzi che ci sono le idee sono chiare vola a basso perché giusto che sia così però da quel che vedo già sul campo è un gruppo primo giorno primo partitina partitina perché conosci grosso dei ragazzi come giusto che sia e penso che quest'anno ci divertiremo davvero in bocca al lupo crepi il lupo ciao ciao